Buongiorno a tutti, oggi abbiamo una baluva, praticamente speck, gorgonzola, mozzarella, l'aggiunta delle mie patatine, i wuster, il gamberetto che sono tutti imboscati, ve la faccio vedere anche dall'alto perché mi devo far venire fame, io sto aspettando il solito conventino mai fatto venire fame perché ultimamente non arriva e non va bene. Che i miei figli devono servire a farle venire fame come le pizzette catarine. Se hai fame te la fanno passare, se non hai fame te la fanno venire e quindi osservare attentamente. Poi oggi è stata una giornata un po' così con le mie spommessine, devo vedere il campionato francese come è andato e soprattutto il Bayern Monaco, mi perde in casa 3 a 1, regala complimenti al cambio di allenatore. Andare a prendere Tuchel è stata una generata, così non vincerete un tubo. Beh, buon appetito a tutti. Ciao!